Il Vega è un lanciatore pensato per trasferire in orbita satelliti fino a 1,5 tonnellate, destinati a uso istituzionale scientifico, per l'osservazione della Terra e il monitoraggio dell'ambiente. Esempio di alta tecnologia italiana, il Vega rende accessibile lo spazio anche a soggetti quali università e centri di ricerca. Il vettore è composto da tre stadia propellente solido e un quarto stadio propellente liquido. Grazie a tutti! A 1 minuto e 53 secondi dal lancio si stacca il primo stadio. A 2 minuti e 22 si stacca il secondo. A 2 minuti e 49 si stacca il fairing. A 5 minuti e 57 si stacca il terzo stadio. A 13 minuti e 18 prima accensione dell'Avum. A 1 ora, 2 minuti e 52 secondi, rilascio dei satelliti. L'ultimo stadio raggiunta l'orbita di stazionamento, che si colloca in un range fra i 700 e i 1400 chilometri di distanza dalla Terra, può attivare ripetutamente il motore a propellente liquido per posizionare correttamente i satelliti.